Per la parta batteria in corso 1 Aurora Tasca, nella 2 Eva Speranza, in 3 Vittoria Baneto, alla 4 Chiara Convento, in 5 Viola Magosa, alla 6 Silvia Moretto, in 7 Manolino Dottoretti, alla 8 Gladys Trampini. Conclusione anche della terza, prima di entrare nelle prossime 3 che sono le teste di serie, quindi Corsiotto, Giorgia De Piedri, 60 e 3.